Il già preannunciato cambio di assetto della giunta comunale di Pesaro ora è diventato ufficiale. Una squadra rigenerata dal sindaco Matteo Ricci che all'interno del suo team ha sostituito gli assessori ai servizi educativi e ai servizi sociali Giuliana Ceccarelli e Sara Mengucci con due new entry, i consiglieri comunali Camilla Murgia e Luca Pandolfi. Un rinnovamento avvenuto a metà legislatura arrivato in seguito alle dimissioni per motivi lavorativi e personali da parte di Ceccarelli e Mengucci. A ricoprire ora il ruolo di assessore ai servizi educativi, scuola e pari opportunità sarà dunque Camilla Murgia, 40 anni, mentre spetterà Luca Pandolfi, 48 anni, ad occuparsi di servizi sociali, politiche per la famiglia e volontariato. A sostituire invece i due nuovi assessori nei loro precedenti ruoli che ricoprivano all'interno del consiglio comunale saranno Giorgia Leonardi e Laura Biagiotti. Le novità però non finiscono qui. Sono stati infatti rimodulati i compiti dei diversi assessori già presenti in giunta comunale, con numerosi cambiamenti nelle loro deleghe. Enzo Belloni d'ora in avanti sarà impegnato in viabilità e ciclabili, verde pubblico, sicurezza, polizia locale e società partecipate. Riccardo Pozzi manterrà il patrocino sui lavori pubblici, mentre Mila della Dora si occuperà ancora di sport, ricevendo inoltre gli incarichi di urbanistica ed edilizia privata lasciati liberi da Andrea Nobili, il quale sarà impegnato in bilancio personale. L'assessore Aidi Morotti riceverà invece da Mila della Dora i compiti sulla politica della casa e sulle politiche giovanili. Un nuovo assetto che, come annunciato dal sindaco Ricci, consentirà al comune di Pesaro di affrontare la nuova fase dell'emergenza Covid-19 e le opportunità del PNRR.